In teoria siamo tutti contro le dittature, ma sapete qual è la dittatura la più difficile a essere sconfessata da ognuno di noi? È la propria, perché uno può essere tentato di ritenersi illuminato, di ritenere che gli altri smagliano, ora la vita democratica è proprio il contrario. E quando qualcuno che non capisce niente dice ma come il suffragio universale mette il grande scienziato alla pari dell'uomo che non ha neppur fatto la scuola dell'obbligo, costui non capisce, non sa che la sapienza, e non viene solo dalla scuola o dai titoli accademici, vi è una sapienza del cuore che spesso è più viva in coloro che sono classificati tra la gente semplice e che non hanno quasi mai la tentazione di montare in superbia.